Il programma è offerto da Oggi vi presento il nostro nuovo programma Tam Tam, musica e dintorni Come si può evincere dal titolo parleremo di musica Ma non solo Ogni puntata parleremo di un periodo musicale Che ha influenzato la nostra vita Il nostro territorio Sia toscana che nazionale Insieme ad un graditissimo ospite Che ci porterà un LP E ci racconterà i suoi ricordi Legati a quel determinato periodo Il tema di questa puntata sono gli anni 70 E ne parleremo con il nostro ospite Massimo Gramigni Il nostro primo graditissimo ospite Della nostra prima puntata È il signor Massimo Gramigni Che è presidente nazionale dell'Assomusica Ex-presidente dell'Assomusica Ex-presidente Che è un motivo di vanto averlo qui con noi Nella mia vita professionale Che è partita il 25 aprile del 1979 E non pensavo di fare questo mestiere Organizzando il concerto di Lucio Dalla allo stadio Biglietto 1500 lire Nella mia vita professionale Insieme a Claudio Bertini E mio socio storico Ci siamo conosciuti il 10 settembre del 1979 Il giorno in cui organizziamo Patti Smith E questa è l'originalità Prima Sashol Poi Obi Hall Oggi Tuscani Hall E poi di avere un'intuizione In cui se devi gestire in forma associativa È un'associazione in Nelson Mandela Forum Un'impresa così complessa Un tetto così originale Talmente vecchio Ma centralizzato in pieno cuore di una città Dove sono rimasti soltanto due palazzi in Italia Palazzarita a Bologna E in Nelson Mandela Forum a Firenze Poi tutti i palazzi sono in periferia ormai In tutte le città sono in periferia Se devi gestire in forma associativa Un bene pubblico di quelle dimensioni Era bene avere un nome importante Mandela era vivo Quando 18 anni fa 17 anni fa Pensavo di chiamarlo Nelson Mandela Forum E proprio lui Disse di sì Il suo capo della Nelson Mandela Foundation E così è l'unico posto fuori dal Sudafrica Che porti il suo nome Beh, congratulazioni E poi anche un onore Una bella cosa Insomma, anche una bella idea È una bella responsabilità Il suo nome Mandela Perché è una bella responsabilità Noi decidemmo di chiamarlo così Perché il colore della pelle Un po' di dividere gli uomini E l'uomo non può essere mai schiavo Di un altro uomo Un po' parlaci anche Della tua organizzazione di eventi Ma anche del tuo concerto A quale sei un po' più legato Io sono legato a Banana Republic Perché è stato Lucio Dalla il 25 aprile del 79 Dovete pensare che nel 79 Lucio Dalla costava 1.500 euro Dopo Banana Republic Insieme al primo concerto professionalmente Classificabile così che è Lucio Dalla C'è stata l'esperienza di Patty Smith Patty Smith perché il 10 settembre del 79 53.000 persone Dal sud Italia Da molte parti d'Italia Diciamo così Il club delle persone note Artisti e non artisti Che erano a vedere il concerto E' un club immenso Insomma ogni tanto trovo qualcuno E dice Ma io c'ero Da Luciano Ligabue in poi A qualche scrittore Insomma oggi importante A qualche giornalista A qualche magistrato Pertanto come dire Quell'esperienza di Patty Smith È un'esperienza unica Biglietto 3.000 lire Palco coperto Il primo palco coperto In tubi innocenti Le transenne Erano le transenne De seggi elettorali Del comune di Firenze E insieme Dicevo All'esperienza di Patty Smith E di Banana Republic Ci sono state poi altre esperienze Insomma Ti hanno formato E io a questo punto Dopo il concerto Manderei l'LP Se un po' è legata al concerto Oppure no Se c'è un suo LP preferito Quello è Banana Republic Vorrei essere Perché insomma Dentro c'è un Mi ricordo anche Dove fu registrato Con quali mezzi tecnici Perché fu Fra i primissimi live Forse il terzo quarto Il primo in assoluto Fu PFM di Andrè Che fu registrato Poi al vecchio teatro tenda Oggi Tuscany Hall E a Bologna Ma la copertina è Fabrizio Insomma alla PFM Dentro il teatro tenda Dell'epoca Mentre noi Ci ascoltiamo la musica Io passo la linea Ad Andrea Rudini Grazie a tutti